ben trovati spazio voli l'appuntamento sotto rete del martedì di Lazio TV una settimana di campionato in Super Lega con tre gare che poi andremo ad analizzare ben trovati voi che ci seguite da casa e un ben trovato all'ospite di questa sera Gabriele Maruotti schiacciatore Taiwan Excellence Latina buonasera buonasera a tutti e allora Gabriele questa Taiwan eh in salsa asiatica come sono questi taiwanesi insomma hai avuto modo con tutta la squadra della dirigenza di avvicinare un po' questi dirigenti che persone sono che tipi sono che genti sono queste di Taiwan abbiamo avuto occasione di conoscerli in vista della prima partita di campionato contro Verona devo dire che è stato un bel incontro perché al di là dell'evento che è stato organizzato per la presentazione per questa ufficializzazione di del rapporto fra fra le due al fuori italico mi pare se non sbaglio bellissimo abbiamo visto tantissimo entusiasmo quindi quella è una cosa che ci ha fatto molto piacere e fa sempre piacere vedere così tanta attenzione verso il nostro mondo e speriamo che che sia una cosa che che porti benefici che sia più duratura possibile insomma è stato molto bello incontrarli assolutamente tanto più che la top vola latina un club storico di questo territorio quarantase anni di storia che si raccontano soprattutto in serie a uno in superlega come si chiama da tre o quattro stagioni dicevamo Gabriele di una settimana ricca di appuntamenti perché evidentemente anche per esigenze televisive la lega di voglia ha capito bene come sia importante da avere visibilità e quindi a livello di appuntamenti ricordiamo che domani ci sarà il recupero Civitanova Ravenna della seconda giornata giovedì toccherà a voi in casa della Diatec Trentino quindi anche lì ci sarà il posticipo Rai alle 20 e 30 venerdì 24 l'anticipo della nona giornata Vibo Modena quindi siete televisivamente coperti caro Gabriele per un appuntamento importante perché la Diatec Trentino non sta sicuramente vivendo un bel momento in questo campionato. Sì sicuramente beh intanto è bello secondo me dare anche continuità dal punto di vista televisivo a tutte le persone che che ci guardano quindi sono tre giorni non ci si può sbagliare 20 e 30 tutte le sere davanti a seduti a tavola davanti alla partita penso che sia una cosa molto molto bella per noi anche perché il campionato che lo merita è sempre spettacolo vedendo anche queste immagini il pubblico del volley sempre fedele sempre puntuale. Sì sì assolutamente si sta un po' forse riscoprendo l'attenzione al volley e penso che sia una cosa molto bella. Perugia adesso stiamo guardando le immagini di questa partita è la squadra simbolo da quel punto di vista fa sempre il pienone c'è un entusiasmo incredibile ovunque vadano e ne giovano loro ma anche tutti quelli che tutto il resto del mondo ecco. E vorrebbe dire capolista a punteggio pieno 8 vinte e di cui praticamente 7 per 3 7 a 0 una gara soltanto in cui ha concesso la vittoria di un parziale agli avversari 3 a 1 quindi la Stair Safti sicuramente sta recitando la parte del Leone in questo girone ma attenzione anche voi state sicuramente interpretando nella maniera giusta questo campionato forse ecco magari qualche gara soprattutto al tie break andava gestita meglio possiamo dire così almeno dall'esterno Gabriele? Sì assolutamente sono d'accordo penso che sia un campionato molto bello perché come abbiamo dimostrato anche noi tutte possono vincere con tutte abbiamo vinto 3 a 0 contro Civitanova e quello è stato un bellissimo risultato l'apoteosi proprio l'apoteosi sì non l'abbiamo coronata con le due partite successive facendo perdendo due tie break contro Piacenza e contro Vibo Valencia sicuramente questo ci penalizza un po dal punto di vista della classifica sono risultati che dicono che è un campionato molto equilibrato e che si deve lavorare tanto se si vogliono risultati importanti è un campionato equilibrato in cui forse in questo momento è Sora che sta pagando un po' d'accio segna il passo la squadra del Basso Lazio anche domenica in casa contro Verona un 3 a 0 insomma un punto in classifica forse con la squadra che delle 14 in questo momento è la meno competitiva o è presto per trarre giudizio? Forse è la squadra più giovane come tutte le squadre giovani che cambiano tanto il girone d'andata è quello più complicato vedremo le vere squadre forse da adesso in poi ecco noi ci abbiamo perso un punto quello è un altro punto che lasciamo sul nostro percorso è il punto che assora in effetti è il punto che assora sì abbiamo perso un po di punti dai diciamo così c'è tempo e modo di recuperare posizioni posizioni che magari erano più consone al valore del vostro roster a partire come detto da questa trasferta la diatec trentino che come voi è riduce da tre sconfitte ma ci sono sconfitte e sconfitte insomma c'è un distinguo in questo momento fra voi e i trentini? Sì sai le sconfitte portano sempre malumore quindi alla fine dei conti non so quanto cambia sicuramente loro avevano prospettive diverse rispetto a questo campionato e si sono trovati si trovano adesso in una posizione a cui non pensavano sicuramente nel momento in cui hanno composto la squadra noi andiamo lì veniamo da una sconfitta con Modena in cui forse non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che ci siamo creati in cui però abbiamo giocato bene questo è quello che ritengo ci debba rimanere addosso dalla sconfitta con Modena e che ci deve spingere a fare bene giovedì contro trento. E allora facciamo così visto che l'hai nominata e ci rinfreschiamo un pochino la memoria per essere passati già nove giorni rivediamo i momenti salienti di Taiwan Excellence Latina Azimut Modena. Un grande spettacolo a Pallabianchini anche se la Taiwan Excellence Latina ha perso contro l'Azimut Modena e i tifosi Fontini hanno potuto applaudire la propria squadra che per tre set ha tenuto testa ai blasonati avversari cedendo il terzo addirittura 34 a 32 dopo aver annullato otto set point. Senza storia il quarto set con la squadra di Stoicev che ha preso subito il largo. 3 a 1 il risultato finale nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Superliga. Modena senza l'ex Tine Urnaut Latina a testa alta quindi ma con il rammarico di aver pagato anche Dazio con gli fortuni nel pino dello spettacolare terzo set infatti Savani accusava un problema alla spalla ma nonostante tutto restava in campo ma doveva rinunciarci al quarto set per i soliti problemi alla spalla. Un vero peccato per chi stava imperversando tra attacchi vincenti e battute efficaci. Eccola qui questo era un po' un flash di questa partita che però aveva dato indicazioni positive per poi come hai detto confermare le distanze fra le due squadre al quarto set. Sì il quarto set è stato un po' è stato quello meno equilibrato insomma noi forse abbiamo siamo un po' calati loro hanno continuato a spingere in battuta e ci hanno messo parecchio in difficoltà infatti è finito con molto di stacco. Come ho detto prima secondo me è meglio focalizzarci sulle cose positive che abbiamo fatto in quella partita su cui abbiamo lavorato abbiamo avuto nove giorni per preparare la partita con Trento e per allenarci nel migliore dei modi quindi andiamo a Trento e cerchiamo di rimuovere la classifica e di portare a casa un risultato importante. Tra l'altro ci sono anche dei temi importanti di questa vigilia a parte che dovete un pochino invertire la tendenza perché lo storico dei confronti fra Trento e Latina dice che sono stati finora più bravi anche per tradizione gli avversari 26 vittorie su 34 8 ai pontini quindi è il momento insomma di portare a 9 nello score delle vittorie. Facciamo così partiamo da questo. Sì è quello che proveremo a fare andare a Trento non è mai semplice lo dimostra il loro tabellino di partite vinte e perse in casa ne hanno perse due nell'ultimo anno e mezzo quindi non sarà semplice e sappiamo che anche loro comunque vengono da un momento non felicissimo questa non è per forza una cosa positiva perché arriveranno carichissimi arrabbiatissimi contro di noi con grandissima voglia di fare risultato. Diciamo che se non ripartono da voi è meglio ecco non è che ci dispiace. Sicuramente più avanti la portano e meglio è per noi. Quindi cari amici di Trento potete anche aspettare poco perché poi domenica si ritorna subito in campo. Sì sì a noi bastano un due o tre giorni in più ecco. Assolutamente non è che dovete per forza prolungare chissà quanto la vostra agonia è chiaro noi ci piace ci piace essere di parte in questo momento perché poi c'è questa tradizione del volley importante. Ti voglio fatti chiedere questo abbiamo visto un bel pubblico contro Modena ma sembra ormai un tormentone il pubblico del parabianchini che comunque viene riempito cioè il sold out contro questi avversari e mi sembra anche a memoria d'uomo e di cronista che a volte tanta gente viene per l'avversario fino addirittura a tifare quando la palla va a terra. Io mi arrabbierei. Sì è un po' la sensazione che abbiamo anche noi onestamente. Fa piacere intanto che ci sia il pubblico. Anche se poi viene per vedere i grandi giocatori dall'altra parte contro Modena sicuramente ce n'erano ci ci farebbe ancora più piacere è inutile negarlo che è un sostegno magari un po' più caldo anche nelle partite che non sono proprio le partite di cartello. Domenica tra l'altro abbiamo un appuntamento che è contro Ravenna. Certo. Che forse è la squadra insieme a Perugia che sta giocando meglio in questo momento perché se non sbaglio sono secondi in classifica e non doveva essere quella la loro posizione in classifica. La mia tabella dice 17 punti e quindi terza in classifica in questo momento perché ci sono Azimut e Civitanova a 20. Comunque una squadra nei quartieri alti. Perfetto sì e per noi è molto importante perché perché abbiamo fame e dobbiamo avere fame di punti e sicuramente sulla carta quella è una partita con cui in cui possiamo portarli a casa. E poi anche perché questa è una piazza Ravenna che sta cercando di crearsi una tradizione nel panorama pallavolistico italiano. Io ricordo in passato comunque anche dei duelli di bassa classifica con Latina evidentemente sono due squadre, due piazze che vogliono fare bella figura. Poi in Emilia Romagna chiaramente sono tutte brave quando si fa del volley. C'è una tradizione molto importante lì. Tant'è che insomma la loro tradizione risale agli anni 90 in cui c'erano squadre che vincevano lo scudetto. Adesso stanno stanno cercando di riconquistare quella piazza. C'è sempre molta attenzione da parte del pubblico lì a Ravenna e questo sicuramente li spinge a fare bene e sempre meglio. Fissiamo queste cifre, sono importanti. Dunque ci sono dei record di cui vanno a caccia i giocatori della Taiwan Excellence Latina a partire da Cristian Savani, tra l'altro ex di Trento per aver militato da quelle parti dal 2004 al 2006. A Savani manca un attacco vincente per raggiungere i 3.000 attacchi vincenti in carriera. A Daniele Sottile manca un muro vincente per toccare quota 300 e a Carmelo Gitto tre punti per arrivare ai 1.500 in carriera. Si andrà in campo anche per questo. Si va in campo per vincere e per fare meglio di quanto si può fare. Anche perché i numeri si guardano prima e dopo, poi durante quando scendi in campo pensi solo a dare il massimo. Sicuramente è bello anche saperli e conoscerli. A proposito di campo, qui facciamo un pochino un passo indietro perché poi ho avuto sì l'opportunità di parlare con la dirigenza ma non con i giocatori. Sappiamo delle polemiche che sono nate dopo la gara contro l'Azimut Modena ad opera della presidentessa. Non prendiamo per il momento posizione, non prima chiaramente soprattutto di aver visto questo servizio che ricostruiva la vicenda. Un risarcimento da investire nella prevenzione della scabbia e le altre malattie dalle quali Katia Pedrini, presidentessa dell'Azimut Modena, spera non siano stati contagiati i suoi tifosi domenica scorsa al Palabianchini. La Taiwan Excellence Latina è intenzionata ad andare avanti a tutela del buon nome della società, club storico di 46 anni e della provincia Pontina. Al vaglio le azioni legali da intraprendere nei confronti della signora Pedrini recidiva dopo aver già denigrato in passato per le docce fredde l'impianto di Via De Mille e tutto l'ambiente etichettandolo da terzo mondo. Stavolta la Pedrini, peraltro consigliere nazionale FIPAV, l'ha fatta davvero grossa, ha scattato e postato foto sul suo profilo personale per mettere in evidenza i limiti dell'impianto, dopodiché è intervenuta nel gruppo degli riducibili giallo-blu assicurandosi che nessuno dei suoi supporters si fosse ammalato di otite o scabbia. Offesi e danneggiati, questa è la reazione del direttore generale Candido Grande e come detto la decisione di chiedere un risarcimento da investire nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla prevenzione. Se invece manca il buon senso non ci sono cure. Allora vediamo se dobbiamo lanciare una campagna di sensibilizzazione anche per la cura del buon senso che evidentemente è mancato quando a parlare e fare queste comunicazioni soprattutto a mezzo social che aggrava la questione sia una presidentessa di un club importante come Modena e tanto più consigliere FIPAV. Da giocatore come hai vissuto questo botta e risposta che non è ancora finito? Sì è un botta e risposta che va avanti da un po'. L'ho vissuto da lontano fortunatamente perché è una cosa di cui si occupano i nostri dirigenti e lo stanno facendo nel migliore dei modi. Al di là delle carenze strutturali del nostro impianto che sono a volte indiscutibili e di cui si sta parlando spesso e se ne parla da tempo ritengo che insomma non sia proprio il modo migliore di mettere in evidenza queste lacune. La presidentessa di Modena forse ha sbagliato nei modi al di là del concetto insomma sono i modi che sono stati. Per il ruolo che riveste tra l'altro. Sì soprattutto quello. C'è stata poi la replica anche una sorta di correzione del tiro da parte della Katia Pedrini che comunque ha detto di non voler attaccare o di offendere il territorio latina e la provincia che rappresenta. Certo è che in sede istituzionale certe frasi non si possono dire e poi ripeto i social a volte sono un problema ma qui offenderei i 7 miliardi della terra perché tutti ormai seguono i social non è che possiamo farci farci molto. Quindi vediamo come andrà a finire questa storia che però come detto è esulata al parquet perché la Taiwan si sta preparando a questo doppio impegno. Facciamo i conti Gabriele tornerete a casa venerdì. Venerdì in giornata. Mattinata. Quindi si dorme in pullman. Sì probabilmente sì. E poi come si prepara in pochissime ore la gara con Ravenna? Si prepara con una seduta di pesi il venerdì pomeriggio allenamento sabato e domenica mattina la rifinitura e poi si scende in campo. Sono questi tempi che abbiamo e li sfruttiamo nel miglior modo possibile. Bene ho ancora un paio di domandine da farti ma intanto il solito zoom sulle alte realtà del territorio e allora sulle immagini della futura terracina femminile campionato di B2 raccontiamo un po' i risultati degli altri campionati partendo dalla serie B maschile con Sabauda quinta in classifica che ha battuto Vesuvio 3 a 2 in serie B1 femminile la Giovoglia Aprilia che ha vinto a Scafati 3 a 1 ed è quinta in classifica come Sabauda nel maschile. Nella serie B2 femminile la futura terracina che rimane ultima in classifica in difficoltà la matricola di questo campionato ha perso 3 a 1 contro Orsogna mentre il Minturno è stato Corsaro sul campo del Sant'Elia 3 a 0 qui si affrontavano il Sant'Elia quinta della classe contro il Minturno che invece occupa la decima posizione Gabriele hai tempo e modo di guardare anche gli altri campionati le serie minori ma non tantissimo onestamente sicuramente amici che militano in campionato inferiore li avrai quindi forse non diciamo in maniera diretta ogni domenica avrai tempo e modo di seguirli un pochino ma guarda ti dico la verità magari sento i risultati da dalle loro storie dei loro racconti ma poi non ne parliamo così tanto ho capito in famiglia visto che la palla a volo è una cultura di cosa ne parla sì sì ogni tanto sì beh c'è mia sorella che gioca in B1 a Sassuolo quest'anno non torna molto spesso a casa estendo un po' lontana però chiaramente l'argomento palla a volo è sempre alle porte è un campionato che stia seguendo chiaramente quello di B femminile chiaramente facciamo così andiamoci a vedere invece chi il volley lo fa per divertimento oltre che per gioco gioco e divertimento sono la stessa cosa fatto sta la presentazione dei ragazzi di prima divisione della futura Terracina Giuseppe Marsella dirigente per quanto riguarda la futura palla a volo Terracina 92 parliamo del roster per quanto riguarda appunto la squadra come è composta ma quest'anno abbiamo fatto cinque nuovi ingressi di ragazzi che tre già giocavano con noi qualche anno fa poi hanno preso strade diciamo altri tipi di livelli di campionato quest'anno sono ritornati con noi perché hanno saputo anche di questo ripescaggio in prima divisione e siamo contenti perché bene o male il gruppo già era bello compatto già c'erano dei bravi giocatori quest'anno con questi ingressi di questi cinque ragazzi abbiamo diciamo completato un po' la rosa che siamo arrivati alle S14 quindi non ci possiamo lamentare per essere l'unica squadra di Terracina maschile siamo più che contenti di quello che stiamo già facendo tanti anni portiamo avanti questo progetto è nato così tra amici e speriamo che sia un buon campionato. Marco Sciscione capitano della squadra pallavolo futura Terracina 92 quali sono gli obiettivi del campionato e come viene vissuto il volley a questi livelli? Beh noi siamo una squadra relativamente giovane abbiamo iniziato sette anni fa e il nostro obiettivo prima di tutto è quello di divertirci naturalmente anche di toglierci qualche sassolino nella scarpa l'anno scorso siamo arrivati secondi quest'anno la squadra è aumentata e dal punto di vista anche dal punto di vista della qualità per cui speriamo bene questo i presupposti ci sono per fare bene naturalmente il nostro obiettivo principale è quello di divertirci che bene Marotti giochi al volley a volley anche per divertimento? Capita al di fuori del campionato? Ah al di là del campionato? Tra amici ecco la domanda è questa. Beh sai quando finiamo il campionato di solito è estate quindi non parlatemi di volley. No 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 però capita spesso insomma avendo parecchi tanti amici che giocano a pallavolo poi ci incontriamo su sui campi da beach volley ecco la trasformiamo in partite di beach volley divertenti assolutamente quindi a filo diretto con il lavoro anche durante l'estate seppur sotto altre forme. Sì sì beh sai poi quando hai una passione è difficile scrollarsela di dosso ed è anche onestamente un modo per tenersi in forma sai l'estate se per chi non ha la nazionale dura tanto ci sono quattro mesi tra la fine del campionato e l'inizio di quello dopo quindi dobbiamo anche cercare di non dimenticare che per noi è un lavoro e quindi di non abbandonare il nostro stato di forma per ripresentarci la stagione dopo in condizioni quantomeno decenti poi insomma per lavorare c'è sempre tempo però ne approfittiamo ecco. A proposito di stagioni sono tre con questa a latina quest'anno sei in scadenza allora che valutazioni si faranno da qui a qualche mese? Tante ma ci metteremo a tavolino con Candido e col presidente valuteremo un po' il da farsi ma sicuramente è una cosa di cui parleremo con l'anno nuovo ecco. Bene Gabriele Marotti è stato un piacere averti qui. Grazie ancora. Grazie a voi. E grazie a voi che ci avete ascoltato. Spazio voli tornerà puntualmente martedì prossimo su Lazio TV Latina canale 650. Grazie a tutti.